Il passato non ritorna mai nelle stesse forme. Il fascismo c'è stato e può ritornare in forme diverse se non si alimenta ogni giorno la Costituzione, la sua difesa e i suoi valori. Le libertà oggi ci sono, domani possono non esserci. Quindi sta a noi non essere indifferenti. Io sono molto contento della mia città perché il nostro popolo è molto attento a questo, lo è sempre stato anche in occasione del referendum sulla difesa della Costituzione, ma credo che oggi ci sia un pericolo a autoritarismo, scurantismo, fascismo non solo in Italia ma in Europa e nel mondo se guardiamo alcuni spostamenti verso destra. Quindi Napoli per ora è un laboratorio di resilienza importante, credo che siano importanti segnali come quelli di oggi del presidente Fico, però è altrettanto importante che il Movimento 5 Stelle faccia il contratto con la Lega all'ora delle due l'una. Se sei veramente antifascista devi prendere quel contratto e buttarlo nel contenitore della carta dove si fa la raccolta differenziata. Allora a quel punto dai un valore fino in fondo all'antifascismo nel nostro paese. Si sente in sintonia istituzionale con il presidente della Camera? Ripeto, le sensibilità sono comuni, i valori che ci uniscono anche, le storie politiche un po' diverse. Noi siamo sicuramente più coerenti perché credo che se partecipi a una coalizione di governo in cui ci stanno un partito che non riconosce il 25 aprile, che ha il ministro dell'interno che si occupa di pericoli inesistenti e poi non fa nulla per far sciogliere le forze neofasciste, i valori sono uguali, gli ideali sono simili, le sensibilità pure, ma nella vita istituzionale contano molto coerenza, credibilità e facta concludenzia. Un fatto concludente secondo me potrebbe essere per il Movimento 5 Stelle, se vuole rappresentare ancora quel vento di cambiamento, e staccare la firma da quel contratto, altrimenti, ripeto, tu vuoi dire anche una bella cosa e condividiamo, ma poi alimenti ogni giorno un governo che va in quella direzione. Insomma, se Salvini oggi non è il 17, è il 34, credo che sia il capolavoro storico di Di Maio, Di Maio passerà alla storia per aver fatto questo capolavoro politico, cioè aver preso Salvini da braccio destro di Berlusconi, portarlo al governo, farlo diventare capo politico di fatto del governo e portarlo al 34%. Se non è un genio della politica lui, pochi ne ho conosciuti nella vita. Grazie.